Eccoci qui, ben trovati, un aggiornamento con il TGD3B perché il satellite ci mostra qualche temporale in atto sul basso Tirreno e sulla Sicilia, una blanda zona di bassa pressione in quota che sta insidiando, attaccando l'alta pressione. Più sole altrove per una giornata anche calda, di caldo affoso in Val Padana. Andiamo a vedere la situazione per i prossimi giorni perché un debole anticiclone anche nel weekend assicurerà un po' di stabilità lungo le spiagge con del sole, mentre le umide correnti in quota si faranno sempre sentire attenzione soprattutto sabato temporali sulla Sardegna e poi nuovamente settori interni del centro-sud. Domenica maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi, settori pedemontani del nord e nuovamente Dorsale Appenninica. Insomma sarà un fine settimana abbastanza buono su alcune zone pianeggianti e località di mare, mentre appena ci spostiamo un po' sull'entroterra attenzione a questi temporali, informazione tra il pomeriggio e la prima serata. Weekend comunque caldo di estate, abbiamo valori ovunque tra i 30 e i 32 gradi, guardate al nord anche punte di 33, 34 gradi. Milano, Bologna ovviamente con caldo un po' affoso, elevati tassi di umidità. Andiamo poi uno sguardo alla prossima settimana, perché probabilmente si abbassa il flusso più fresco atlantico e tra il 2 e il 5 settembre potrebbe esserci il passaggio di qualche temporale, soprattutto sul nord-est, con annesso calo termico per venti che ruoteranno di tramontana, grecale sul lato adriatico, un po' di maestrale invece in arrivo a Ponente. Dettagli maggiori come sempre li trovate sul nostro sito web. Dettagli maggiori come sempre li trovate sul nostro sito.